Si terranno sabato alle 10 a Prestino, quartiere di Como, i funerali di Marinella Beretta, la donna di 70 anni trovata morta nella sua abitazione a Como due anni dopo il decesso. La città si mobilita per darle l'ultimo saluto. Un dramma della solitudine seguito da tutta Italia che ha invitato anche ad analisi e riflessioni. Il Comune, dopo questo episodio, ha ipotizzato di istituire un'anagrafe degli anziani. Ed è proprio l'amministrazione ad aver organizzato e fissato i funerali di Marinella per la giornata di sabato alle ore 10 nella chiesa di Prestino, frazione di residenza della donna che poi sarà sepolta nel cimitero di Camerlata. La scoperta della sua morte è avvenuta in seguito alla segnalazione della persona che aveva acquistato la sua casa lasciandole l'usufrutto che non riusciva a mettersi in contatto con lei. Poi gli agenti delle volanti della questura di Como insieme con i vigili del fuoco si sono recati nell'abitazione della donna per le verifiche del caso. Il sindaco di Como, Mario Landrescina, ha invitato i cittadini a partecipare ai funerali dobbiamo diventare noi, i suoi familiari, aveva detto il primo cittadino deve essere un momento di riflessione su un esempio di solitudine che deve indurci davvero a migliorare e a cambiare certe dinamiche. I vicini di casa pensavano che si fosse trasferita, la donna non aveva alcun legame familiare dopo che la notizia della morte è rimbalzata sui media nazionali la questura ha ricevuto la telefonata di alcuni lontani cugini residenti in Emilia Romagna che però pare non avessero più contatti con lei da decenni.